La voce di Dio ci chiede di dedicarci più perfettamente a Lui, come ci troverà? Spero che sia vero quello che voi dite. Padre Celeste, Divino Amore, Amico Amato Dio, Gesù Cristo, Babaji Krishna, Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswarji, Ben Amato Guru, Paramahansa Yogananda, Grandi Santi di tutte le religioni, Vi salutiamo tutti, dacci il vostro amore e aiutaci a condividere questo amore con tutti. Aum Shanti, Amen. Sedetevi. Will my days fly away without seeing Thee, my Lord? Will my days fly away without seeing Thee, my Lord? Night and day, night and day, I look for Thee, night and day. Night and day, night and day, I look for Thee, night and day. Night and day, night and day, I look for Thee, night and day. Meditiamo, sedetevi diritti. Come tu ne tenere aperto il cuore? Tu devi lasciare, lanciare fuori del tuo cuore ogni altro desiderio. Perché i desideri chiudono il cuore a Dio. Tu devi amare, noi dobbiamo avere soltanto l'amore per Dio. Non è facile. Dobbiamo essere onesti con noi stessi anche, perché certi desideri rimangono lì necessariamente come uomini o donne. Però noi dobbiamo capire. È bene fare per questo che volevo che Sahaja sia qui. Però magari tu puoi dire. Quale è la parola per buonfire? Fallo, 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 eh, sono sordo. Comunque è un fuoco. E gettare ogni desiderio ogni notte è bene cercare il tuo cuore e getti ogni desiderio nel fuoco. L'ho fatto per anni. Mi ha aiutato tanto. Adesso posso dire che non c'è nessun desiderio nel cuore, tranne per Dio, ma è stata una lunga battaglia. Non è facile. Dio ti dà tanti provi. Vedi, non ho parlato italiano per molti mesi e ho dimenticato un po'. Però, Gesù ha detto, molti sono chiamati, pochi sono scelti. Dio cerca, Dio sceglie coloro che vogliono solo Lui. E veramente ci sono solo due cose necessarie per trovare Dio. Uno è devozione per Lui, amore totale per Lui. E l'altro è smettere ogni piccolo pezzo di ego che rimane. Quindi quando qualcuno, per esempio, diciamo, ti insulta, dici grazie, non ti combattere. perché ti fa un favore, ti fa ricordare che tu hai ancora questo senso di difeso, ma non solo così. Dici, sì, va bene, grazie. E quando uno cerca di farti male, ti dici grazie. La grande cosa, la più grande cosa sul sentiero verso Dio è lasciare questo senso che io sono separato di tu, di te. Che io sono separato da Dio. Io sono un uomo particolare in questo mondo. È vero, ma non è vero. È vero in questo senso solo che ognuno ha un cerchio individualità che non perderà mai. Tu vedi anche nelle vite dei grandi avatar che sono già liberi in Dio e vengono sulla Terra. Ognuno ha una particola personalità, una maschera che porta vita dopo vita. Per esempio, Yogananda ci ha detto che era il guilieno conquistatore. E quando io ho sentito questo per la prima volta, ho pensato, mamma mia, ma... Io ero nato nel sistema inglese e ho sempre pensato al guilieno conquistatore come l'ho scelerato più grande della storia. E poi ho trovato che era il mio guru. Questo mi ha fatto fare ricerca e ho visto, infatti, che era un gran, gran santo. Però come i santi, i santi devono sempre proteggere loro la propria umiltà, bontà, eccetera. Gli avatar spesso vengono per distruggere il male. Come dice nella Bhagavad Gita, quando mi incarno come un avatar, vengo per distruggere il male e per mettere sopra il virtù, il buono. Qui il ruolo delle avatar qualche volta è molto forte. Guilieno conquistatore, quattro secoli dopo che lui era morto, hanno disinterrato e hanno trovato che il suo corpo non era cambiato. E questo viene solo per i grandi santi. Lui era infatti i suoi unici amici, erano santi. E era completamente in un'epoca quando tutti gli uomini non erano fedeli ai loro mariti, sposo, mogli. Muglie, grazie. Lui era completamente fedele alla sua moglie. Lui era infatti un gran uomo, però aveva un lavoro, un dovere importante per cambiare. Vedi, Europa era una cosa intera. Era difficile cambiare l'Europa con l'influenza di tanti paesi. Inghilterra era parte dall'Europa e era anche molto sotto il paganismo della Scandinavia. Quindi lui è venuto per cambiare Inghilterra e con questo poteva tenere valore. Ha creato molti monasteri, molti. E il suo messaggio era un messaggio forte, però molto importante per il benessere del tutto il mondo. Così come Yogananda. Lui ha detto che era anche Arjuna. Arjuna era un guerriero, però era un gran maestro. Era durante la guerra di Corcetra. Questo Gesù, molti dicono ma Gesù era molto... Vedi come lui ha trattato le persone nel Tempio che prestavano denaro? Era molto forte. Quando ha parlato ai farasei, ha detto voi siete i figli del Diti, del diavolo! Padre era un forte uomo, perciò l'hanno scurgificato. Trostifisso? Sì. Ok. Tutti grandi maestri come lui, Krishna, Buddha, sono stati molto forti. Però io ho vissuto con Yogananda. C'erano alcuni che avevano paura di lui. Io ho visto un volto così caro, così pieno d'amore, di perdono, di... senza... non nessun senso di ego. Era un gran, gran maestro. Io mi trovo molto fortunato essendo il suo discepolo diretto. Una volta mi ricordo sono seduto ai suoi piedi mentre lui redattava i suoi commentari sulla Bhagavad Gita e io stavo pensando ma che onore, che grazia essere il suo discepolo. Un mezz'ora dopo quando ha finito mi ha chiesto di aiutarlo alzì in piedi e lui mi ha guardato molto vicino e ha detto soltanto un'onda sul mare. Non preneva niente per se stesso. Ha detto io ho ucciso Yogananda molte vite prima. Nessuno vive in questo tempio che è Dio. E infatti voi dovete capire che Dio non è lì. Dio è dentro di te così ha detto Gesù voi cioè questo vuol dire che voi dovete diventare Dio e il vostro destino è realizzare che lui vi ha sognato lui è diventare questo corpo quel corpo tutti i corpi ogni piccolo insetto lui ha diventato tutto questo mondo è un sogno di Dio e in questo sogno l'anima di ognuno deve crescere 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 finalmente diventare uomo finalmente dopo migliaia milioni forse di vite vi comincia a pensare ma c'è più in questa vita io voglio essere felice ma non trovo mai la felicità dov'è questa felicità e comincia a capire che come Gesù ha detto quando tu dai è più benedetto dare che prendere che ricevere e tu cominci a capire che meno che ho questo senso di separazione uno dall'altro più incluso tutto nel mio amore io ho avuto un sogno a Firenze anni fa quando ho visto una folla di persone e ho visto che ogni persona sia il più cattivo mafioso ognuno voleva solo una cosa la felicità perché perché Dio è la beatitudine perfetta e noi fatti da Lui vogliamo quella perfezione quindi quando uno comincia a capire questo comincia e ci vuole un molto molto un un dice chiedere una volta non penso che un buon karma io ho risposto con molta forza ricordati questo ci vuole un buono buono molto buono karma anche solo per voler Dio io penso che posso dire questo di tutti voi altrimenti perché siete qui guarda la gente nelle strade non hanno questo pensano che posso avere per me cosa posso prendere cosa posso il problema di oggi la causa della depressione è l'avarizio invece di dare uno pensa prendere allora noi dobbiamo capire e in questo sogno ho visto il perché di amare tutti adesso quando vado nelle strade io vedo ognuno con amore perché lui ognuno vuole la stessa cosa che voglio io forse si sbaglio ma vuole ognuno vuole la felicità ognuno cerca la beatitudine non lo sa alla fine ognuno è destinato di trovare Dio e di immergere in Lui e scoprire che voi come Gesù come Buddha come Krishna come Yogananda voi siete uno con Dio voi siete Dio non si può dire altro voi siete Dio allora perché non lavorare per realizzare questo questo grande destino per ognuno ogni anima sognata da Dio deve tornare a Lui e diventare uno con Lui quando hanno i farisei hanno criticato Gesù per dire che era uno con Dio Lui ha risposto ma non dicono i vostri scritture voi siete dei non siete umani però per il fatto che cercate le cose piccole piccole soldi sesso eccetera rimanete umani non è necessario ama Dio c'era un uomo che è venuto con una lunga lista di domande da fare a Yogananda ha fatto il primo domanda molto intellettuale Yogananda ha risposto ama Dio ha fatto il secondo ama Dio tezzo ama Dio e sei andato via l'amore per Dio e la risposta io so perché ho passato per un periodo di di dubbi molto forte non volevano odiavo però è un mio karma e per il fatto che ho avuto dubbi nelle altre vite e sono benedetto in questa vita di coprire i dubbi degli altri perciò posso segnare bene perché conosco però io ho capito che la risposta a ogni dubbio non è una risposta una spiegazione intellettuale è amare Dio e quando una volta tu senti questo amore nel tuo cuore nient'altro ha significato mi ricordo un altro sogno che ho avuto che nemici miei mi hanno messo a fuoco e io li ho visto vicino a tavola era un sogno solo vicino a un tallo festeggiare ridendo e io stavo indifferente ho pensato ma questo dolore non durerà non importa poi amici miei mi hanno salvato era ugualmente indifferente è bene arrivare a questo punto dove tu sei indifferente a ogni dolore ogni pena nella vita perché la vita ti darà sofferenza Krishna ha detto nella Bhagavad Gita usci di questo mare di sofferenza e miseria e così è infatti la vita e quando Yogananda molte volte non voglio spaventarvi però più sincero tu sei più ti darà Dio ti darà sprovi Yogananda ha detto che vivere per Dio è un martirio però vale la pena perché questo mondo è un martirio molto più grande e quando uno pensa a questo vedi quando Dio era lo spirito solo senza l'universo era tutto calmo per una volta che lui ha manifestato la sua creazione ha dovuto creare questo principio di dualità e per ogni bene c'è un male per ogni sopra c'è un sopra sotto per ogni bel cosa c'è una brutta cosa per ogni successo c'è un falimento questa è la verità non potrà avere questo universo senza questo principio di dualità allora la gente pensa sì soffro ma c'è anche un po' di piacere e la gente pensa che questi pensieri forse avrò di nuovo un successo un piacere una gioia sì sarà così però non rimarrà l'unico successo how do you say fulfillment a pagamento ogni verrà solo dentro di te non verrà nel mondo esterno allora ama Dio è l'unico messaggio che posso dirvi messaggio importante ho pochi messaggi o non importanti da condividere io sono stato diventato un po' vecchio a maggio avrò 87 anni e non io andavo in aereo da Calcutta a Mumbai e all'improvviso perso tutto l'udito in questo orecchio che era un buon orecchio l'altro non era così buono quindi sono stato sordo adesso posso sentire un po' meglio però in India ho visitato molte città ho fatto grandi discorsi a Chennai 3000 persone sono venute e 1000 persone dovevano andare perché non c'era posto e ho avuto un entusiasmo una reazione molto grande sono contento per questo per il maestro perché io credo che il suo messaggio ha un'importanza grande in questo nuovo era di Caliuga di energia e perciò e a questo ho dedicato la mia vita io ho ho perso il bilancio dove devo sempre avere qualcuno vicino a me per bilanciarmi non una bastone non mi aiuta non so perché ma non 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 è un aiuto per me quindi è necessario avere qualcuno e ci sono qualche piccole difficoltà con la vecchiaia però devo dirvi che vale la pena perché perché vale la pena perché non c'è non chiedo non desiderio niente sono soddisfatto contro questa vita una professione in India ha detto che devo vivere fino a 91 anni spero di no ma se sì io ho scritto vari film è un film che voi vedete in aprile ti muoverà fino a piangere è bellissimo le hanno fatto devono mettere insieme la musica con l'azione non è ancora pronta però è un film di Ananda dimostra un modo di vivere che io penso sinceramente cambiare il mondo Yogananda ha detto che il futuro del mondo sarà che tutti vedranno la bellezza di vivere insieme con altre persone che sono in sintonia con te e invece di città dove c'è il crime e tante altre cose vivere in piccole città piccoli gruppi che possono crescere il loro soldo il loro cibo è un bel film poi hanno fatto un altro film della mia vita la mia ricerca per Dio è stata molto interessante perché ho passato per tutte le grandi illusioni di questa era ho passato prima volevo essere un scienziato un astronomo e ho realizzato alla fine ma questo non funziona perché non tocca il cuore è una verità che ho provato con l'internetto ma non mi tocca quindi ho pensato a 13 anni a 14 ho pensato fosse un sistema di politici ho pensato di diventare un comunista forse alla fine ho capito che i sistemi non possono farti meglio tu devi farti te stesso meglio nessun sistema può cambiarti e poi ho pensato all'arte dove volevo io suonavo il pianoforte ore per giorni ho pensato a diventare musicista un mio insegnante di voce ha detto che vivo soltanto per una cosa per vederti un grande cantore io non sono mai tornato ho pensato io voglio la verità non voglio diventare famoso per musica non vale niente poi ho pensato a essere d'amaturgo ed avevo un certo talento per quello e sono stato un scrittore sono sicuro in altre viti mi ricordo a sette anni i miei genitori hanno criticato qualcosa che ho scritto perché ho detto è questo è questo tu sai come i bambini dicono io sapevo che avevano ragione però nel subconscio mi è venuto il pensiero ma chi sono loro per dimmi come scrivere perché ero scrittore prima e finalmente ho capito ma io voglio essere scrittore per aiutare gli altri a sapere la verità io proprio non conosco la verità allora perché affondare il mondo con la mia ignoranza quindi ho lasciato quello non avevo cercato Dio perché quello che mi ha parlato di Dio della Chiesa non mi ha fatto senso però una notte mi ricordo ho fatto un lungo passeggiata e ho pensato ma se c'è un Dio che deve essere alla fine ho realizzato ma io sono cosciente quindi lui deve essere la coscienza se niente altro almeno la coscienza allora il mio dovere e aprimi a quella coscienza e ho visto che quando ero più chiaro nella mente avevo più comprensione quando meno chiaro per esempio quando bevo vivevo whisky avevo meno allora ho deciso quella notte che il dovere della vita era cercare Dio e io non sapevo niente delle vite dei santi ho pensato ma forse sto andando per pazzo e ho detto ma anche se divento pazzo devo cercare Dio e pensavo di andare in una giungla in Brasil e cercare Dio pensavo che trovare Dio sarebbe almeno un po' più di pace mentale e poi Dio ha preso mano in questa cosa mi ha mandato mio padre a Egitto ma quando il giorno proprio che ho messo la mia mamma sulla nave per raggiungerlo io sono andato a New York e ho trovato l'autobiografia di New York io non sapevo niente della filosofia indiana non sapevo niente di yoga permesso era forse un tipo di yogurt poi leggendo quella ho lasciato tutto se i miei genitori erano qui avevo soltanto 22 anni era possibile che avranno mi impedito ma ero libero e ho preso il primo autobus attraverso il continente di America sono andato da Yogananda in me le mie prime parole erano voglio essere il suo discepolo e sono stati il suo discepolo adesso quello era l'anno 48 adesso sono discepolo per 65 anni e devo dire che vale la pena dico a tutti voi vale la pena perché perde la vita per le piccole cose qualche cosa i soldi niente la fama niente sesso niente 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 cercate Dio voi troverete io posso dirvi dopo 65 anni che ho trovato molto di quello che cerco ho trovato la mia attitudine sono sempre felice ho trovato l'amore amo tutti ho trovato Dio non posso dire non so però so che quello che ho trovato lui sarà solo molto di più allora io posso dire della mia esperienza che sì ci sono prove enorme prove mi hanno quasi distrutto però vale la pena cercate Dio io sono molto felice di essere qui da voi e spero di vederti un po' più però a mia età non è facile fare e mi sento un po' debole però molto felice pervi tutti e vi è vedere molti anziani come ho detto anziani amici ma il vero anziani sono io grazie a voi ok ok grazie a voi grazie a voi